Quindi saranno presenti scrittori e giornalisti. Allora, un invito a pranzo un po' speciale, avete pensato di fare un'iniziativa con questa situazione un po' particolare? Sì, abbiamo deciso di lanciare un appello provocatorio ai cittadini fanesi e l'appello è quello di aprire la porta della propria casa per un'iniziativa che si chiama Indovina che viene a pranzo. Concretamente che cosa accadrà? Le famiglie che decidono di aderire a questa iniziativa ospiteranno a casa propria domenica 30 settembre a pranzo, quindi proprio per il pranzo della domenica, uno o più rifugiati e richiedenti asilo che sono appunto presenti nel nostro territorio. È una modalità che noi abbiamo scelto di proporre perché secondo noi una vera accoglienza è possibile solo nel momento in cui si allacciano delle relazioni personali, cioè nel momento in cui non ci si relaziona solamente come gruppi o con l'idea di un'invasione che sta attraversando il nostro paese, ma conoscendo singolarmente appunto la storia di ognuno di loro. È la possibilità appunto per i fanesi che appunto sono interessati a questa iniziativa di poter aprire la porta della propria casa e avere un ospite speciale a pranzo per conoscere la sua storia e appunto entrare in relazione con lui. Dopodiché tutte le famiglie si incontreranno insieme agli ospiti in piazza 20 settembre, dove faremo un momento invece di festa con della musica africana ovviamente. Come si fa per chi vuole aderire e chi vuole aderire a questa iniziativa? Allora, le adesioni devono pervenire alla nostra associazione, quindi telefonando allo 0721 865159 oppure inviando una mail all'indirizzo italia-chiocciola-lafricachiama.org. Basta avere l'adesione della famiglia, noi daremo le indicazioni diciamo così logistiche, alcune indicazioni sui menu da seguire per evitare appunto di fare delle pietanze che potrebbero non essere diciamo approvate dalla religione di questi ragazzi e poi appunto ci sarà il pranzo domenicale allargato con un posto a tavola in più.